Ciao a tutti ragazzi, io sono Mattia e benvenuti in questo nuovo video-reaction. Sono capito a fare la reaction alla nuova canzone di Chiacco Zalone, questo attore comico fantastico. E a quanto pare, da qualche si dice, ne hanno parlato anche i neti G, da qualche si dice dovrebbe fare anche un tour e una delle prime tappe a Milano e dovrebbe fare questo tour fino a fine anno, se ho capito bene. Ma non perdiamoci in chiacchiere e facciamo questa reaction e recensione a questa nuova canzone, intanto sono due minuti e passa. Io di Sciolla Nicola, giaguardia portuale, faccio attualmente l'eroe nazionale. Da quando che al porto arrivò sequestrato il megaiotto di un russo magnato, che ci passava ogni notte tra vodka, caviale e tonne normale. Fu proprio lì che pensai patriotticamente in molo a mio figlio per l'Occidente. Cioè ragazzi, trovare le rime è veramente, mamma mia, sta tirando fuori praticamente di tutto e siamo appena ai primi secondi. Sì, mamma mia, sta tirando fuori praticamente di tutto e siamo appena ai primi secondi. Mi piace poi anche orecchiabile. Sì, è carino, finiamo un po'. Siamo già a un minuto e passa, manca ancora un minutino e vediamo un po' come va a finire. Ma a rovinare la splendida festa, tutto d'un tratto lo iotto si arresta. Vedo mio figlio dal pianto straziato e dico la colpa, papà, è del magnato. Com'è? C'hai palazzi, jacuzzi e strafighe? C'hai le squadre nelle Champions League? C'hai Stasmania che vuoi l'Ucraina? E chi ti è morto, non metto la benzina? Sulla barca dell'Urigarca rimane un po' quella notte in mezzo a mare. Sulla barca dell'Urigarca non prendevano nemmanto il cellulare. E' bella, adesso è finita, mancano pochi secondi, sì, infatti, pochi secondi ed è finita. Sulla barca dell'Urigarca, gli albani si fucivano e me lo salvano. Ok, allora, cosa devo dire? Carino, c'è ancora qualche secondino. Prossimamente, nei tre altri delle vostre città, in amore più IVA. Va bene ragazzi, oggi è che possiamo filmarci qua. È stata bellissima, mi è piaciuto tantissimo. Anche le rime non sono semplici da trovare, però, come vedete, le ha trovate veramente in modo veramente pazzesco. Dai, è carino, è chiaro, è piaciuto tantissimo. E nulla, ragazzi, spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate, se anche voi l'avete già ascoltato, se lo ascolterete e se andete ascoltare magari qualche suo concerto che ci sarà nei giorni prossimi, nei prossimi giorni e nei mesi prossimi. Adesso non ricordo quando inizi. Va bene, io vi saluto e se il video è piaciuto un bel like, un commento e un'iscrizione al canale. Niente, ci vediamo nei prossimi video. Bene ragazzi. Ok ragazzi, eccomi qua. Devo fare due chiacchiere per quanto riguarda la nuova canzone di Checco e Zalone sulla barca dell'oligarca. Devo dire che mi è piaciuto tantissimo, è molto orecchiabile per adesso e è una delle mie preferite. Quella che mi è piaciuto di meno attualmente è poco ricco. Però lei, devo dire che ci sa veramente a fare. Io vi ho salutato e per dire, no, ci tenevo a fare due chiacchiere così. Facciamo più una recensione che una reaction. Sì dai, direi che ci sta, ci sta. Mi piace molto, vedremo poi le prossime cose che pubblicherà. Come stavo dicendo, andare nei teatri per fare spettacolo ovviamente. E nulla, lei se non può vedere cosa questo attore comico ci proporrà in futuro. Bene, nel frattempo io adesso vi saluto veramente. Ci vediamo nel prossimo video. Bella!